Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Covid-19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Di questi, 74 sono risultati negativi, 7 positivi, tra i quali anche il test positivo di primo livello sul paziente ricoverato a vasto, e 4 sono attualmente in corso. Dei positivi, 6 sono stati già confermati dal risultato delle controanalisi dell'Istituto Superiore di Sanità e sono tutti ricoverati non in terapia intensiva. La differenza tra il numero totale e quello degli esiti è legato al fatto che alcuni test sono stati eseguiti più volte sullo stesso paziente. Al momento sono stati eseguiti 19 test per l'ASL Avezzano sul Monanacuila, 11 per l'ASL Lanciano-Vastocchieti, 46 per l'ASL di Pescara e 15 per quella di Teramo. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Tua, la Società Unica dei Trasporti Abruzzesi, in considerazione delle misure adottate con decreto dal governo italiano e relative alla chiusura di scuole e università in tutta Italia dal 5 al 15 marzo, non effettuerà le corse bis dalla giornata di oggi, giovedì 5 marzo, mentre non effettuerà le circa 150 corse scolastiche giornaliere previste in tutta la Regione Abruzzo da domani. I servizi, momentaneamente sospesi, riprenderanno regolarmente alla fine del periodo indicato dal decreto, salvo diverse indicazioni del Consiglio dei Ministri. I segretari regionali di CGL, CISL, UIL e UGL, Rita Innocenzi, Riccardo Gentile, Alberto Stampone e Gianna Diamicis, hanno incontrato l'assessore regionale al lavoro, Piero Fioretti, per una prima analisi in via preventiva dei possibili impatti negativi in termini occupazionali e produttivi causati dal coronavirus. Per i sindacati, in assenza di quest'analisi da compiere territorialmente, i provvedimenti del Governo rischiano di non cogliere le esigenze complessive, dimostrandosi deboli per intensità e portata. Del resto, per fronteggiare questa emergenza inedita, sono necessari strumenti e misure per lavoratori e imprese a valere su tutto il territorio nazionale, dato che il blocco produttivo ed economico delle regioni del Nord ed il contesto stanno incidendo, già ora pesantemente con ripercussioni in tutto il Paese, ivi compresa l'economia dei nostri territori. Dopo mesi di ritardo attribuibili a responsabilità del Governo, con quest'ultimo atto approviamo finalmente e definitivamente il nuovo piano strategico della zona economica speciale della Regione Abruzzo. E questo è il commento del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dell'assessore regionale all'attività produttive, Mauro Febbo, a margine della Giunta. Dopo le dovute modifiche apportate ieri, la Regione è pronta a rinviare al Dipartimento Sviluppo Economico l'implementazione del piano strategico della ZES, attualmente attraverso l'individuazione delle particelle catastali corrispondenti alle singole aree ricomprese nelle zone individuate dell'istituenda zona economica speciale. Uno strumento fondamentale di rilancio dell'economia e del settore produttivo, spiegano Marsilio e Febbo, e l'Abruzzo, dicono, merita di essere messo al pari delle altre regioni del Sud, che hanno la zona economica speciale già approvata. La Giunta regionale abruzzese, nella seduta di ieri che si è tenuta a Pescara, per definire il programma di soppressione di passaggi a livello insistenti sulle linee ferroviarie della Regione, ha approvato il relativo protocollo d'intesa da sottoscrivere con Rete Ferroviaria Italiana. Nello specifico si tratta di arrivare, in un decennio, al completamento dell'eliminazione delle interferenze ancora presenti sulle cinque linee ferroviarie abruzzesi, dove risultano ancora attivi 141 passaggi a livello, 12 sulla Giulia Nova Teramo, 22 sulla Rocca Secca Vezzano, 46 sulla Roma Pescara, 17 sulla Sulmona Carpinone e 44 sulla Terni Sulmona. La Giunta ha poi disposto l'ampliamento del programma regionale di interventi di sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali nelle province di Chieti, L'Aquila e Teramo. Tale programma, finanziato dal Ministero per le Infrastrutture, ha previsto per l'Abruzzo una quota di finanziamento di poco superiore a 100.000 euro da destinare al cofinanziamento nella misura massima del 50% in favore delle tre amministrazioni provinciali. A seguire, l'esecutivo regionale ha deciso di concedere un contributo di 40.000 euro al Comune di Teramo per rimodulare un intervento con un nuovo progetto di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale di un tratto di strada comunale in località Cartecchio in prossimità della Statale 80 del Gran Sasso d'Italia. E c'è stato via libera nell'ambito di un bando ministeriale del 2018 alla conclusione della procedura per l'attivazione di un progetto di ricerca presentato dalla Regione Abruzzo e finanziato dal Ministero della Salute per un importo di 450.000 euro relativo alla demenza a corpi di Lui una malattia neurodegenerativa simile alla malattia di Alzheimer. Nell'ambito del programma di investimenti in edilizia sanitaria la Giunta regionale ha poi attribuito al Comune di Montesilvano la somma di 809.000 euro per l'adeguamento e la messa a norma ai fini della prevenzione incendi del distretto sanitario di base di Montesilvano. e alla ASL di Avezzano sul Monanacuila risorse pari a circa 451.000 euro per la ristrutturazione edilizia ed impiantistica ai fini dell'adeguamento antincendio del distretto sanitario di base di Avezzano. Inoltre sulla base della legge 560 del 93 è stato approvato sempre dalla Giunta regionale il reinvestimento delle risorse derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica incassate dalla ASL di Pescara nel 2019 pari all'importo di 400.000 euro. Infine la Giunta, sentito il parere dell'ISPRA e sulla base di piani di abbattimento selettivi, ha approvato il disciplinare tipo per la caccia di selezione con riferimento a quella di selezione alla specie cinghiale che viene consentita dal 1 marzo al 30 settembre. Un centinaio di esercizi commerciali ed artigianali coinvolti tra Pescara e Montesilvano in nome della tutela della salute della donna. Sarà un weekend nel segno della solidarietà, quello organizzato dal 6 all'8 marzo da un gruppo di sigle del mondo dell'impresa, del commercio e dell'artigianato, CNA, Commercio e Confesercenti, e del commercio dei due centri coinvolti, Viviamo Pescara e Montesilvano nel cuore, per sostenere attraverso una raccolta fondi i progetti di Come in Italia, associazione basata sul volontariato in prima linea da 20 anni ormai nel campo della lotta e della prevenzione dei tumori al seno su tutto il territorio nazionale. Lo sport, il calcio, in particolare la Serie B, un'autorete di Scogna Miglio e la rete di Giasi nella ripresa hanno regalato tre punti allo Spezia contro il Pescara. Al picco si è giocato a porta aperte, ma è stata l'ultima volta perché da un'ora in avanti e per un mese lo si farà a porte chiuse. Parte forte lo Spezia, come al solito, in casa creando subito. Grossa opportunità per Maggiore, ma la palla sfiore il palo alla destra di Fiorillo. Sempre Maggiore impegna il portiere Biancazzurro da fuori aria con un destro velenoso. Il Pescara si vede con Galano, con palla sull'esterno della rete. Nella ripresa non cambia il canovaccio, ma la pressione porta subito al gol del vantaggio dello Spezia provocato da Galabinov che appoggia di testa sul cross di Matteo Ricci con Scogna Miglio che, suo malgrado, sospende Fiorillo deviando nella sua porta. Il raddoppio non tarda ad arrivare ed è frutto di un'azione spettacolare Giasi-Maggiore Giasi conclusa dall'attaccante con un diagonale preciso. La partita praticamente finisce qui perché poi lo Spezia si limita a gestire e a sfiorare la terza rete. Oggi è giovedì 5 marzo e nella diocesi di Avezzano è consentita la commemorazione di Santorante e solennità in Ortucchio. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino alle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, è coperto in serata con temperature da 9 a 14 gradi e 20 deboli e nelle zone interne cielo sereno fino a metà pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, è coperto in serata con temperature da 9 a 12 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. È tutto, grazie per averci seguito. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa di Cesana di Pescara Penne, buon proseguimento di giornata. Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.